spiderman è caduto aiuto spiderman è caduto tantissimo spiderman è caduto no aiuto e spiderman era caduto prova bene e quindi qual è il problema ditemi qual è il problema problema ok sto arrivando a salvare questa città dai di dagli artisti troppo bravissimi ok arrivo chi è che sta dipingendo soliti bambino viziato togliti stupido bambino dov'è aiuto vattene via vattene su uccidati vieni qui e buttati 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 bravo ok raga oggi ma chi manca manca qualcuno manca qualcuno allora c'è qualcuno che si è mutato chiunque sia mutato alessandro ale togliti attiva il microfono subito alessandro attiva col microfono tarocco qui 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 venite qui venite qui subito qui raga se vado quello si suicidia allora oggi giochiamo ad amon gas giochiamo ad amon gas non so perchè dice che horror non so perchè dice che horror ma io non la metterò nel mappio avete notato che dice che sta mappa è horror ma non è horror oh ma oh santa maria aiuta avete notato sta mappa dice che è horror ma non è horror sì ma siamo solo noi quattro non è molto più bello avviamo la partita io sono celeste io sono mario io sono verde io sono rosso io io celeste non dov'è ma ma questa è una mappa di amon gas è precisa guardate è identica guardate qui è vero oh ma ci dà pure l'evento al califo scuro e ci può entrare oh cos'è questo me lo prendo allora chi muore non può parlare chi muore non può parlare ok ecco chi muore non può parlare basta e facciamo così si può parlare soltanto quando siamo in disco quando c'è la discussione ok solo io posso parlare perché sto facendo un video sarebbe brutto senza parlare ok anzi facciamo così mutatevi tutti mutatevi tutti quando c'è l'emergent meeting vi attivate il microfono ok va bene va bene ok va bene è giusto semplice ok raga io mi sono mutato ehi c'è qualcuno che non si è mutato è stupido non so ok allora io non sono impostore raga potete vedere mamma mia secondo voi no secondo me sto e sto scemo l'impostore sto scemo no ma allora non posso dire questo scemo perché in effetti sono tutti scemi non so chi chi sospettare se vado qui sospettano di me perché esco dall'evento tipo poi pensano tutti così allora devo trovare l'emergent meeting che mi sto annoiando senza parlare oh dove è l'emergent meeting dove è l'emergent meeting dai c'è uno scemo che non si è mutato ok oh madonna mia è ben rotto oh qualcuno mi vuole uccidere aiuto raga attivate quei microfoni tarocchi qualcuno mi vuole uccidere chi è che vuole uccidere l'aiuto aiuto non sto non vedo neanche chi è non ho manco visto chi è che mi voleva uccidere non ho manco visto chi è che mi voleva uccidere non ho manco visto aiuto c'è qualcuno che mi sta seguendo non sto neanche chi non so neanche chi è perché non mi so no 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 dai dai allora chi mi uccide è un topo chi mi uccide è un topo gigio chi mi uccide è un topo gigio chi mi uccide è un topo gigio non aiuto raga raga è Alessandra 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 ti vota dov'è l'emergent meeting fate l'emergent meeting mutatevi mutatevi appena ho provato l'emergent meeting appena ho trovato l'emergent meeting appena trovate l'emergent meeting appena ho trovato l'emergent meeting appena ho trovato l'emergent meeting 물pot bientôt criminals non ci fai non Ma che cos'era? Ma siete stupiti tutti? Ok, io sono blu. Io blu. Allora mutatevi tutti, mutatevi, mutatevi. Ho detto mutatevi. Ok, bravi. Vedi? Ogni tanto fanno gli scemi, ma sono pure bravi. Sono pure bravi, sì. Comunque, avete visto? Sono io l'impostore, che bello. Oh no, ok? Se non ero mutato tutti scoprivano che ero io. Allora, io non devo manco scappare da nessuno, perché tanto? Ok. Raga, sono... Sono dentro, che bello! Mio Dio, devo trovare... Raga, ma che colore scesa? Non ho capito. Io sono blu. Ma io non sto scordato. Io blu. Rosso. Ok, va bene, mutatevi. Rosso. Ok, ok. Emergent meeting! Ho trovato un morto! Ho trovato un morto! Io non ho capito! Allora è che scusci... Antonio è morto? Oh no, allora era Antonio quello che è morto. Raga, ho trovato un cadavere! Ho trovato un cadavere! I cadavere sono pupatti di noi! Non mi votate! Allora, riflettiamo prima di votare. Riflettiamo! Allora, tu dove eri? Io non mi ricordo dove... Non vedi niente. Sarei sulle scale. Ho scontato di sconchiave. Io stavo facendo una task. Quando poi ho finito e stavo camminando ai corridoi, ho trovato sto cadavere. Ah, e tu cosa vuoi? E tu invece... E dove? E dove si trova? E tu cosa fai invece? Secondo me è Dario! Votiamo Dario! Secondo me è Dario! Secondo me è Dario! Votiamo Dario! Raga... Ormai è Alessandro. Vabbè, ormai... Ciao Dario! Non so che tanto eri tu! Vero fra me? Eh? Non ero io! Ah ah! Ciao! Ed ero io! Mamma mia! Questo è questo l'uomo! Avrò... Che colori siete? Che colori siete? Che colori siete? Io sono celeste! Celeste! Ma perché? Io non ce l'ho mai l'imposto! Ok, statevi zitti! Tutti zitti! Mutatevi! Mutatevi quel microfono! Ok, si sono mutati tutti! Perfetto! Raga! Io... Sono sospettato... Sospetto del pupazzo di neve! Sono male il pupazzo di neve! Allora... Qui non faccio la tasca perché c'è lui! E poi dice... Mi volevo uccidere! Mi volevo uccidere! Ok... Io non trovo task! Ma che cos'è? Comunque sono stato bravissimo a imbrogliare! Come sono stato bravo! Io devo scoprire dov'è l'emergent meeting! Ah, eccola dove è l'emergent meeting! Ah, spero che devo... Ok, vabbè, ho trovato l'emergent meeting! Vabbè! Che musiche inquietanti! Aiuto! Raga, mi sto chiedendo tosse! Allora... Allora... Tu prima eri dietro di me! Poi... Ti ho visto delle trasportazioni davanti di me! Io... Io sono... Io sospetto il pupazzo di neve! Sono mai Antonio! Poi mi salta sempre dappertutto ed è sempre vicino all'evento! Guarda, guarda, ti c'è di... Dai, io ho guardato chi c'era di prima! Io ho guardato! Poi era davanti a me! Io li riconosco, non so! Io ho visto l'Antonio, però poi non l'ho visto più! Perché... Non l'ho giudato! Antone, vediamoci, era lui! Non è! Era lui! Era lui! Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Eh, ma... Antone, mi ha vinto un po' di una volta! Io non l'ho trasportato! Avevo capito! Strona! Avevo fatto! No, sei andato a piangere, vabbè! Allora... Vabbè, mutatevi! Mutatevi tutti! Mutatevi! Antone, non ti dicono i colori! Io non ti dicono i colori! Ma se non ti dicono i colori, eh Dio, ciao! Allora, io sono blu, perfetto! Antone, se ne è andato! Forse si è arrabbiato, non so! Oh, madonna! Ok, va bene! Sono io! Mamma mia! Indovinate chi è! Mamma mia! Sono io! Sono io! Io sono l'impostore! Però era l'ultimo che uccide alla fine! Ok! Antonio c'è ancora! Ucciderò lui per prima! Ah no, dai! Lo volevo uccidere comunque! Aspetta, faccio la tasca! Appena mi affaccia che posso uccidere! Allora... L'ultimo che ho trovato a me! Oh, madonna mia! È stato l'ultimo che... L'ho trollato! È stato l'ultimo! Oh, madonna mia! Ok ci mutiamo Antonio ci sei Ok va bene Mutati Ok Antonio è tornato Siamo tutti mutati Sì ok Non sono io l'impostore Sono molto arrabbiato All'inizio sti cosi mi sembravano mascherine Con che sta per finire il 2020 Finalmente Se qualcuno mi uccide Se qualcuno mi uccide Mentre che faccio le task Io dico brutte Ma che scemo Dai è troppo bello giocare con loro Aiuto Perché poi fanno così tanto Tante cavolate A volte mi arrabbio Sì Ma a volte Che cosa è successo Lo ucciderò nella notte Lo ucciderò nella notte L'Ucciderò nella notte L'Ucciderò nella notte Ok mutatemi Ciao Sono una specie di Un celeste Mutatemi Stupido Ok Giallo Non sono io Che cacchio Mamma mia Mamma mia Perché non sono io Sono stato solo due volte Vabbè due volte Mi dovrei accontentare tantissimo Due volte Ok Comunque è un bel po' Che non faccio video da soli È vero O li faccio sempre con Mirko O con mio fratello Su Minecraft Comunque Minecraft Arco Non è finita Non è finita Non vi preoccupate E che Vabbè Per ora stiamo avendo cose Con diverse Uh Torcia Ero troppo Ero troppo Allora Io me ne vedo Sto scemo Ma perché Sto scemo Stupido Ok vabbè Se qualcuno Se qualcuno Mi uccide Io Mi arrabbio Ma mi arrabbio Veramente Ah Un camon gasta In prima persona È strano Veramente Ok va bene Io sospetto Il pupazzo di neve Però Lo spio Lo spio Oh Lo hanno visto tutti Tutti lo hanno visto Devo andare a fare L'emergent meeting Emergent meeting Dov'è l'emergent meeting Oh mio dio Non è qui Dov'è l'emergent meeting Oh madonna mia Dov'è La devo trovare La devo trovare L'emergent meeting Non voglio morire No Era Alessandra Era Alessandra Non trovavo L'emergent Non trovavo Il pulsante Ma che cos'è Alessandra Troppo 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 Io Io Arancione Arancione Non ho capito Se si è impostori L'ho capito Io Prima volta Che sono Innocenta Raga Però Non ci mutiamo Dai E' brutto No Sì Ci dobbiamo Mutare Mamma mia Che cosa E' Spegniamo Muttate Mutatevi Mamma mia Perfetto Facciamo le task Non ne stiamo Vincendo una Mamma mia Task Da completare Sono 18 Io Non ne trovo Mai Per fare Una task Che ci vuole Tre ore Ma che Cos'è Ma dai Ok Task Completata Ok C'è qualcuno Che mi segue Meglio Se mi Nascondo Ok Qualcuno Mi Accida Dai Mi Rabbio Mi Rabbio Eh Nessuno Si deve Azzardare E Uccidermi Porca Raga Chi è che ha suonato Chi è che ha suonato Chi è che ha suonato No Ho metto Lo youtube No dai Raga Chi è che ha suonato Antonio Che cosa hai da dire Non ho suonato Io Non ho suonato Io non ho suonato Dario Che c'è Ragazzi secondo me Allora chi è che ha suonato Dario Io Votate Votate Dario Votate Dario No perché avete skippato Votate Dario Non mi ha chiamato Non mi ha chiamato No 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 Dario Dario lasciami qua Voi siete stessi scegli Di dove hanno il tavolo Io vogliamo prenderlo Io sto accanto al costo Delle emergency meeting Così vediamo chi ci viene a prendere Ok raga facciamo l'ultima dai Facciamo l'ultima Ok raga sono di nuovo io l'impostore Mi sto molto divertendo Veramente La mia tecnica è questa Chi è Che è successo Oh raga Perché avete chiamato Che è successo Cadaveri non ce ne sono Francesco Per noi ho chiamato Francesco sei tu l'impostore No C'è tu l'impostore No 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 Ragazzi chi è che ha prenduto Tu sei stato tu 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 che è stato E stanno uscendo le tasse Ok Ho votato Ho votato a Dario Secondo me è lui Mi segue sempre Sbagliato Ti faccio vedere pure Della chiamata Spostasi No 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 Mi segue sempre Mi segue di continuo Mi segue di continuo Secondo me è Francesco Io voto Io voto Io voto a te Vero vabbè No raga Francesco era dietro di me Schifo Stava imbrogliando Che cazzo è oggi Antonio Vettel Antonio Vettel Antonio Vettel Oh ma non sono io Francesco Che seguiva me Ma se Guarda Abbiamo vinto Francesco Non era lui A posto No era lui No 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 Ma sapevi La seguiva pure Allora Facciamo così per vendetta L'ultima e poi stacchiamo il video Basta Ok 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 Ma guarda Sono un detettivo Sì sto cacchio Sono un detettivo Allora Mi seguiva sempre E non Ma perché mi avete votato Ma io sono tornata alla lobby Eh io sono tornata alla lobby Perché sono stupida Ok ragazzi Questa è l'ultima partita Io sono viola Mutatevi Ciao Giù Mi sono rat 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 Guarda il microfono La scuola è chiusa Che stupidi Non capiscono niente Ah ecco una tasca Che bello C'è qualcuno che cerca di spiare Questa non è una bella cosa Non è per niente Una bella cosa Oh no cosa ho fatto Oh no cosa ho fatto aiuto Ero uscito per sbaglio No Mai deve succedere una cosa di questa Dai Mi uccidono di nuovo Io termino il video Io termino il video senza dirglielo Poi gli dico Ah Eh no Siete stupidi La vostra stupidaggine Mi ha fatto terminare il video E' stato molto magico Questa cosa Comunque se vi chiedete Perché non metto la webcam E' perché E' almeno Per me è un po' difficile Mettere la webcam Perché Di Non ho proprio tutte le cose adatte La webcam La metto col telefonino Ed è molto difficile sta cosa Uno di cui mi vuole uccidere Dai Che cos'è questa roba Nessuno Mi devo uccidere Ma posso entrare qua dentro E ficcarmi qui dentro Per il resto della partita No Non posso Vabbè Allora Da 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 Che cacchio è successo Sì Dai Dai Allora 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 Mi stavo premendo Io l'ho uccisa Ti voglio che un po' gire Già Mi sono Io lo sapevo E lei lo sapevo Bo vabbè Allora Io lo sapevo Terminiamo il video Ragazzi Tu lo sapevo Che roba è portato Perché lui ha fatto Sì Oh vabbè Ragazzi 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 Io lo sapevo Che ragazzi Ma Ragazzi 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 Per oggi è tutto Io parlo e mi sento uno stupido Perché manco mi ascoltano Oh ma c'è una tosk Che bello Dovevo dare il balletto Preparato Ciao